La partenza del cammino è dall'isola che ospita attualmente il centro storico di Taranto e dove la via Appia taglia l'istmo originario attraversandola su quella che è l'attuale via Duomo. Attraversata tutta la città si incontra la masseria Rao dove recentemente sono venuti alla luce i resti della via Appia antica. Proseguendo sulla via Consiglio ed oltrepassando il margine esterno della città si incontrano altre aree attraversate dalla via Appia. Alcune di queste sono note dalle ricerche storiche, altre invece sono di assoluta attualità perché probabilmente sono collegate a scavi che stanno emergendo in una zona dove sarà edificato il nuovo ospedale. Questi scavi sono caratterizzati da una ricca stratigrafia storica.